Posso dare un po' di tolleranza? Lei può comunque poi consegnare, è già autorizzata a consegnare. Con questa ultima indicazione, l'accordo, Presidente, ha sollevato non poche polemiche in taluni settori dell'opinione pubblica centroamericana. Non vi è dubbio che occorrerà attendere qualche anno per vedere quali frutti cresceranno grazie alle prospettive aperte dell'accordo stesso, anche se già da oggi è possibile cogliere la forte volontà delle classi democratiche di questi Paesi di raggiungere una coesione ed una integrazione che fino ad alcuni decenni fa non era immaginabile. Una coesione raggiunta attraverso la mediazione del Parlamento centroamericano, il cui ruolo, sottolinea, come i Paesi centroamericani abbiano di fatto raggiunto una nuova fase del loro processo di integrazione. Un processo che ha di fronte a sé ancora molta strada, ma che sicuramente potrà adesso avvalersi di questo nuovo quadro giuridico internazionale di collaborazione e di scambio. Grazie. Grazie, autorizzata a consegnare, a facoltà di intervenire il rappresentante del Governo che però si riserva e quindi non essendovi ischitti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali, avvertendo che non si darà luogo alle repliche. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Passiamo alla discussione del disegno di legge di ratifica già approvato dal Senato numero 3300, ratifica di esecuzione dell'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti, studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese con allegati firmata a Pechino il 4 luglio 2005. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avverto che la Commissione Affari Esteri si intende autorizzata a riferire realmente a facoltà di intervenire la relatrice, onorevole Carrozza. Grazie, Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. L'accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti, studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare Cinese, sottoscritto a Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi. Ad oggi la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un accordo di cooperazione che risale al 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo della ricerca risale a un accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. Manca ancora una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi verso le università dell'altro Stato contraente e conseguono.